Duetta con me, tu le battute blu e azione! Salve, vorrei acquistare quelle scarpe Certo, mi dico il suo numero Proprio così? Allora, 3, 4, 7, 5 No, quello, il numero di scarpe Ah, mi scusi, 2 2, sì Poi non lo so, potete vendermi una seconda sinistra perché di solito poggio male il piede quindi rovino sempre di più la scarpa di sinistra Le scarpe sinistra una coppia, mi dispiace, ambozziamo